Anche quest'anno Microsoft Education è qui presente a Didacta Italia per supportare tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola, soprattutto i nostri docenti e anche i dirigenti che tanto fanno per tutti gli studenti d'Italia. Per noi è importantissimo ogni anno essere qui presente e chiaramente comprendere come il mondo della scuola si sta evolvendo e affiancare chi la scuola la fa per le nuove sfide, per accompagnarli anche nel gestire le nuove opportunità non solo per la didattica ma anche per comprendere quali competenze possiamo trasferire agli studenti e come possiamo aiutarli a farli diventare dei cittadini più consapevoli, più preparati, più pronti per il mondo che affronteremo. Chiaramente è anche un fatto di dargli degli strumenti giusti e supportarli con le giuste tecnologie. Da questo punto di vista Microsoft con orgoglio da anni sviluppa delle tecnologie specificatamente pensate per gli studenti non solo per supportarli nella comprensione ma soprattutto anche per comprendere qual è l'impatto che l'utilizzo di queste tecnologie hanno rispetto al loro percorso di apprendimento. Si parla tantissimo di intelligenza artificiale che ormai permeane chiaramente qualunque tipo di conversazione. Da questo punto di vista Microsoft è assolutamente il leader nel mondo annunciando delle partnership importantissime con OpenAI che ha sviluppato come sapete ChatCPT e quindi ha inserito all'interno delle proprie soluzioni l'intelligenza artificiale di OpenAI. Anche con queste soluzioni dimostriamo sempre più che facciamo innovazione, che siamo supporto delle scuole e chiaramente vi invitiamo a esplorare Didacta e a venirci a trovare anche nei nostri siti. Grazie.